Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, giovedì 5 aprile. I notizie sui giornali prendono sempre spunto dalla politica e dalle consultazioni inutili che sono iniziate ieri. Il rito delle consultazioni fa parte di una liturgia, ovviamente, consolidata del sistema politico italiano. Ieri Mattarella ha visto un po' di gente, ma non ha risolto nulla. Oggi il Corriere della Sera, voce di Marzio Breda, come ha scritto oggi Giuliano Ferrara? Quello che sta avvenendo oggi sono soffietti stampa. Quello di Marzio Breda è il soffietto stampa più importante perché è la voce, la gola profonda della Presidenza della Repubblica degli ultimi vent'anni. Non è che scrive una riga che non sia dettata, lo dico con rispetto, dalla Quirinale. Cosa dice? Che le consultazioni nelle prossime ore, cioè quelle che stiamo vivendo ora, saranno tutte quante concentrate sul rispetto dei vincoli europei. Non riesco a capire se questo sia il ruolo della Presidenza della Repubblica. Anche perché se avessero vinto dei partiti, faccio l'esagerazione, perché tali non sono più contro l'euro, e quindi il 60% di italiani avesse votato partiti anti-euro, il Presidente della Repubblica dovrebbe prendere atto di quello che avviene. Un Presidente della Repubblica questo fa. Anche se Giuliano Ferrara in un bel pezzo oggi sul foglio ci spiega qual è la tattica vera, non quella dei conti pubblici di cui parla oggi il Corriere della Sera, ma la tattica vera del Presidente della Repubblica oggi, secondo Giuliano Ferrara, è quella di prendere tempo, quello di fare il democristiano, quello di spuntare i diversi veti. L'abile azione di ascolto la definisce Ferrara con l'arma finale, cioè l'arma finale secondo Ferrara del Presidente della Repubblica è minacciare che si vada alle urne subito, che è una cosa che ai parlamentari non piace, è inutile che ci prendiamo in giro. La Repubblica parla di tentazione, elezioni, ragazzi, pretattica, oggi leggete i giornali, a Hug, Giorgio, i giornali e si capisce che questo è divertente il pezzo di Vittorio Feltri, che come spesso fa lui rompe tutti gli schemi, dice ma vi rendete conto amici miei, questo è il paese di Dante, Alighieri, di Olivetti, non so, cita 20.000 persone che gli piacciono a lui e dobbiamo stare appesi alle labbra di quello che dice un ragazzino, senza arte ne parte come Di Maio, dice Feltri, 60 milioni di italiani che aspettano quello che dice il signor Di Maio. È anche vero che molti di questi italiani lo hanno votato, caro Vittorio, e quindi sono cavoli nostri. Andiamo avanti sulle questioni da politica, non è molto interessante, nei prossimi giorni sarà questo trick e track, diciamo, di... scusatemi passaggi diplomatici, molto interessante la questione della Cassa Depositi e Prestiti, seguitemi bene, la Cassa Depositi e Prestiti è una specie di mammut che controlla Eni, che controlla Saipem, che controlla Enel, che controlla migliaia di piccole e grandi aziende italiane, una sorta di IRI gestita da un ex banchiere, Costamagna, in scadenza, e che ne fa il presidente, e un ex banchiere che è Gallia, che anche lui ne fa l'amministratore delegato. Bene, secondo quello che c'è scritto oggi su tutti quanti i giornali, Cassa Depositi e Prestiti vorrebbe comprare una quota di Tim, la ex Telecom. Pare il 5%, in Tim c'è uno scontro tra un fondo a voltoio, cosiddetto Elliot, che vuol fargli un mazzo così ai francesi di Vivondi, che hanno gestito male Telecom, ma soprattutto in grande conflitto di interessi. Si facevano gli acquisti a casa loro, si facevano gli affari loro, poi voi sapete, io sono un servo berlusconiano, quindi Vivondi ha cercato di scalare Mediaset, non ho amore nei confronti di Bolloré. Ma se noi tiriamo da parte i nostri amori e disamori, cercate di stare attenti, perché oggi i giornali tutti quanti raccontano l'intervento della CDP, cioè l'acquisto da parte degli italiani di una quota di Telecom, oggi in mano ai francesi, come una grande roba che ci riportiamo a casa alla telefonia italiana. Ragazzi, minchiate, minchiate, straminchiate. Telecom non potrà più essere pubblica, grazie al cielo, grazie al cielo. Il fatto che noi prendiamo i nostri soldi di contribuenti, del risparmio postale, e li mettiamo per comprare un'azienda come Telecom, soltanto per partecipare a una guerra tra un Vivondi e un fondo americano, che si chiama speculativo, che fa il suo mestiere solo quello di comprare aziende che pensa che siano sottovalutate per poi rivenderle a un prezzo superiore. Ma di che ci stiamo raccontando? Dove ci stiamo mettendo in mezzo? I nostri soldi fanno parte di queste? Sì, sono speculazioni finanziarie. Però oggi ci racconta Saldutti che siccome, e ce lo fa capire, che siccome Unicredito e Generali, che sono due società quotate e più importanti italiane, gestite da francesi, non avrebbero voluto dare una mano al fondo Elliot, ma sarebbero, si fa intendere con i francesi, di Vivondi, beh, allora arriva lo Stato italiano che ci salva. Vi prego, guardate le cose per il loro verso. Volete utilizzare il risparmio degli italiani per entrare in una guerra finanziaria tra un fondo americano Elliot, che magari gestirà benissimo, e un azionista francese che ci sarà pure antipaticissimo a come si chiama Vivondi? Se ragionate in termini di principi dovete rispondere no. Oggi sui giornali questa analisi non la trovate. Tutti con cassa, depositi e prestiti. Va bene? Tutti con cassa dei prosipezzi. Zuckerberg si scusa, da 50 agli 80 milioni sono diventati gli utenti controllatici su tutti quanti i giornali, ma l'altra grande storia che mi piace oggi è quella della 104. Perché la 104, ieri Musumeci fa una conferenza stampa, ne parlo, lo vedete sul sito nicolaporro.it, quindi non mi dilungo oggi, tutti i giornali ne parlano. Federico Monga oggi, molto divertente, sul mattino, dice i 2350 dipendenti della Sicilia che hanno la 104, sono per loro, è diventato un diritto a prescindere, come diceva Totò. Monga cita anche una statistica che io non ho trovato da nessuna parte, quindi soltanto lo cito come sua statistica, record europeo, detentori di diritto della 104 e dice il 10% dei dipendenti pubblici hanno la 104. Poi oggi guardo invece Mattia Feltri che mi dice che è il 7%, dovremmo fare un po' di chiarezza sulle statistiche di quanti italiani hanno la 104. Quello che è certo è che Musumeci ci ha detto che in Sicilia su 13 mila dipendenti ci sono 2350 con la 104 e io aggiungo 2500 dirigenti sindacali. Se volete vedere più dettagli andate sul mio sito perché di questo mi occupo. Ma la notizia del giorno non è che in Sicilia hanno la 104 e ci siamo indignati, fa schifo, è una cosa allucinante e inutile che ne parliamo, ha ragione Rodolfo Checo Zalone Docet. La cosa vera è quello che oggi c'è scritto sul Corriere del Trentino, che voi ovviamente non avete letto, a meno che non siate trentini, anche se siete trentini c'è difficoltà a leggere questi giornali, ormai non li vendono più. Ma il Corriere del Trentino, in prima pagina, l'apertura, sapete che cosa c'ha? È stata arrestata, arrestata una dirigente provinciale e sapete perché? Perché avrebbe abusato della legge 104. 40 episodi tra il 2013 e il 2018 le sono contestati nell'utilizzo della famosa legge 104 che c'ha da tre giorni a casa, retribuiti e con i contributi, se si ha un genitore, un figlio o un parente in gravi condizioni. La dirigente provinciale trentina è stata arrestata per l'utilizzo proprio della 104. Allora, a me mi viene da ridere. Ma scusa, ma c'è il presidente della regione in Sicilia che dice che ci sono 2350 con la 104 e cita un caso, almeno un caso, di uno che si è fatto adottare da un anziano malato che non era suo padre per godere della 104 e in Trentino, dall'altra parte dell'Italia, arrestano una dirigente perché ne è abusato. Allora, possiamo pensare davvero che soltanto in Trentino si riescano ad accorgere degli abusi della 104? Solo in Trentino? Oppure, caro Musumeci, cari amici miei siciliani, cari magistrati siciliani che pensate di fare stato mafia, stato cazzo, quello che volete voi, non vi occupate delle cose più banali? Banali? Cioè andare a vedere quando rubano non solo i politici che vengono considerati la casta, no? Fraccaro oggi fa un'intervista al messaggero e diciamo toglieremo i vitalizi agli ex deputati. Benissimo! Ma nel frattempo i vitalizi degli ex deputati che toglierebbe Fraccaro valgono una sessantina di milioni di euro, posto che, voglio dire, toglieglieli, chi se ne frega, proprio non me ne importa nulla. Ma quanto costano tutti gli sprechi e tutte le truffe fatte dagli italiani normali che abusano della 104, tra l'altro togliendola a chi ne ha davvero il diritto? Quanto valgono quelli Fraccaro? Perché non ci occupiamo della 104 invece di fare le cose? Perché la 104 riguarda tutti quanti gli italiani e non una piccola pattuglia di colpevoli cattivoni che sono i politici, che peraltro hanno poco da farsi dimenticare. Ma comunque, insomma, posso permettermela sulla zuppa, ma non a o altrove. L'ultima cosa che veramente mi è divertita oggi, ve la segnalo, è per Luigi Magnaschi. Quanti minuti vi abbiamo fatto? Per Luigi Magnaschi oggi, su Italia Oggi, il giornale che lui dirige, fa un pezzo favoloso in cui dice Scusatemi, vi ricordate la questione delle spie, della spia russa che sarebbe doppio giochista, uccisa a Londra, per cui avevo cacciato tutti i diplomatici in tutta Europa, anche l'Italia si è accodata con due diplomatici. Ve la ricordate quella storia? Bene, c'è un piccolo problema. Mi spiegate per quale motivo hanno trovato gli scienziati, quelli della scientifica inglese, che il gas nervino utilizzato per uccidere quella spia non è chiaramente di provenienza russa. Cioè non è detto che sia, come inizialmente dicevano, non può che essere un gas russo. Non è vero, lo dicono quelli della scientifica inglese. E poi si chiede retoricamente la Svizzera, che è un paese considerato democratico, che non fa parte di tutte queste pippe nostre, diciamo, del politicamente corretto europeo, perché non l'ha cacciati? Perché ha detto semplicemente, banalmente, non c'è una prova che sia una, che sia stato Putin a uccidere il doppio giochista. Peraltro uno che non contava più nulla, stava da vent'anni lì, l'avrebbero potuto uccidere mille altre volte. Per quale motivo si deve sporcare Putin per una minchiata di questo tipo? Beh, questo ragionamento sui giornali, un po' come, voglio dire, la CDP, non l'abbiamo trovato. Lo scrive solo Bagnaschi. Bagnaschi dice, vabbè, l'Italia poi ha fatto, come sempre, è stata paracula, perché ne ha mandati soltanto via due. Ma la May è la più goffa presidente, premier inglese degli ultimi anni, che vuole fare la Thatcher. Ma la Thatcher faceva la guerra all'Argentina, anche quella ridicola, per però avere grande ritorno in casa. Questa fa la guerra minima, ridicola, cacciando quattro diplomatici russi, su una fake news, o comunque su nulla che è dimostrato. Chi ha detto che è stato Putin? Se per l'altro dire una cosa di questo tipo, su Twitter, dove circolano quelli che la pensano sempre bene, mi dicono, ma come? Ma come non lo sai? È chiaro che è stato Putin, è ovvio che è stato Putin. Non abbiamo una prova, non abbiamo niente, eppure abbiamo cacciato i diplomatici, tutti sulla fiducia della signora May. Beh, insomma, direi che per oggi è tutto, leggetevi Magnaschi, e ragionate sulla questione della CDP e sulla 104. Quanti non hanno detto a 104 se ne sono approfittati, ora di che apriati gli occhi, dice Adriana. È esattamente così. Vi darai ciao Bonita, i soliti intrighi politici, cose ci saranno dietro, io questo non lo so, ma la spia non è morta, c'è ragione, una delle due non è morta, adesso non mi ricordo se tutte e due sono morte. Bene, vi do appuntamento, come sempre questa sera in radio, condividete questa zuppa se vi è piaciuta, la state condividendo, e sta un po' migliorando il reach, perché voi le sapete che su Facebook, che dice che ha contattato 85 milioni di persone, senza il permesso, Facebook che ti tiene un po' strettino con il nuovo algoritmo, quindi se voi condividete, si diffonde di più la zuppa, anche se, come si suol dire, le nostre visualizzazioni stanno crescendo, io di questo ne sono felice. Nicolaporro.it è il sito che è stato rinnovato completamente da ieri, direi che fare pubblicità alle mie affari finisce qui, no, Stefano non ti posso adottare, mi spiace, non adotto, perché non sono malato e non avresti ancora, per ora e non avresti nessun vantaggio sulla 104. Appuntamento a questa sera. Ciao!